Il comune di Castellabate è stato promosso a pieni voti nella pagella compilata dai turisti stranieri che hanno fatto tappa nelle dieci località della provincia di Salerno con il maggiore numero di visitatori. I dati della Banca d'Italia raccolti per l'indagine campionaria sul turismo internazionale parlano chiaro. I turisti stranieri intervistati sono soddisfatti dell'accoglienza e dei servizi. Primo posto assoluto per Castellabate con una votazione media complessiva di 9,64. Seguito sul podio da Maiori e Positano. Castellabate inoltre vince per alcune categorie specifiche, la qualità degli alloggi, il buon cibo, la qualità delle informazioni e il costo della vita. Essere sopra la media della provincia di Salerno, che ha raggiunto comunque con l'ottimo risultato superando la media del 9, ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre di più. Questo è il commento del sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, in merito all'ambito traguardo. La categoria di turisti stranieri, continua Spinelli, che soggiornano nel nostro comune, soprattutto tedeschi, statunitensi e inglesi, tornano spesso più volte da noi nel corso degli anni e questo testimonia il fatto che il nostro territorio riesce ad affascinarli non soltanto per la bellezza del paesaggio, ma anche per l'accoglienza, per il rapporto qualità-prezzo e per i servizi. Si tratta di grandi risultati raggiunti grazie all'impegno sinergico fatto insieme ai tanti operatori turistici presenti e attivi sul territorio.